e sghere come dicono i miei amici della dark polo che mi seguono sono dei miei grandissimi fan infatti dovrò fare anche loro una scheda perché hanno cominciato a fare video a petto nudo e la cosa insomma non va bene devo fargli un corpo quasi normale per estetico per la videocamera ma lì ci penso io li vedrete presto in un mio video allora ragazzi seconda settimana di dieta come promesso seconda puntata della serie allenamento completo oggi tocca alle gambe allora ragazzi i pesi ovviamente stanno calando la settimana scorsa è andata bomba mi sono allenato veramente da fuoco i carichi mi piacevano sono riuscito a stare bello concentrato questa seconda settimana è un po più dura però ci sta insomma io me lo aspettavo adesso faccio gambe e basta solo gambe perché non ce la faccio più vi faccio vedere la mia routine e ci vediamo di sopra in palestra e sghere due adesso sono venuto su adesso non potrò più parlare perché c'è un casino della madonna oggi c'è la radio a bomba vero christian troppo alto oggi da fastidio non ci si concentra vecchio le cuffie me ne frega gran poco comunque vado a fare lo squat la mi ingabbio l'aspero ci sia luce per riprendere che non si vede niente al limite mi farò fare delle riprese da loro che scrocco oggi scrocco anche oggi le riprese va bene non è che hanno tanta scelta quindi riprendono o se vuoi a a a Benefite il nostro canale, il nostro canale è www.mesmerism.info 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 Allora è successa una cosa che non mi succedeva da una vita, da un sacco di tempo Nell'ultima serie di squat ho fatto i 12 colpi mi pare E con la scusa che sono in dieta e ho i recuperi cortissimi sotto i due minuti Mi si sono tappate le orecchie Un po' mi si è annebbiata la vista Insomma sì, è stupendo, era una vita che non lo provavo Mi mancava proprio, stavo per svenire, è stupendo Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.